Ultima ora. Nuova svolta shock sul caso Kimberly Bonvissuto. Tutti sconvolti. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Da busto arsizio giungono ancora notizie preoccupanti riguardo alla scomparsa della ventenne Kimberly Bonvissuto, avvenuta lo scorso lunedì. Il suo cellulare è spento. E non ci sono notizie dalla giovane. Riporta la stampa.it. Alimentando l'angoscia in città. Le ricerche proseguono senza sosta. Con particolare attenzione alle immagini delle telecamere pubbliche e private nella zona di Via Cellini, dove Kimberly vive con la madre. Gli inquirenti cercano di capire se la giovane abbia incontrato qualcuno o se abbia ricevuto un passaggio. Il padre della ragazza, visibilmente preoccupato, ha dichiarato di aver ricevuto telefonate con segnalazioni. Spero che siano fatte in buona fede e non per distogliere le indagini, ha affermato, assicurando che tutte le informazioni sono già state fornite agli inquirenti. Nel caso in cui le segnalazioni siano state fatte con intenzioni furvianti, il padre è deciso a farne assumere la responsabilità. L'intera comunità di Busto Arsizio resta in attesa di notizie che possano portare alla soluzione di questo mistero e riportare Kimberly a casa. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.